ciao a tutti da svideo sapete con chi sono sono in compagnia con ls 106 ciao ciao questa mappa si chiama nuboli up noi cerchiamo di salire come si chiama così la mappa guarda io non c'è oggi ho sbagliato subito c'è veramente no ma che lavoro c'è scusa dovrebbe essere aspetta che c'è lo schermo che ok salgo di qua allora qua non li posso rubare i barini mamma mia sto facendo malissimo mi aspetti dove mi aspetti ma dove sei e non ho capito dove sei mi aspetti ma ma no niente vada un disastro disastro no 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 è meglio che vai perché il disastro si non oggi salto malissimo niente si vede che a pranzo devo mangiare di più ha mangiato la piadina col prosciutto io casco sempre ma che roba è ma scusa ah io ho visto solo tre cose in croce perché casco sempre c'è questa è la mappa per i nabbi io sono così nabbo che non riesco neanche boh no veramente c'è veramente no e adesso vado dalla parte delle gomme a vedere se magari di lì è più facile ma come ma no ma ragazzi ma chi 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 vede il video dirà ma no ma non è possibile se chi chi dice del video dira ma 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 chè che è sta roba ma come fa essere così nabbo ma no ma mentre sei passato dalle gomme asisi sì sì forse riesco andare avanti ragazzi un like perché sono riuscito andare un po più avanti C'è il problema che io non vedo la tua visuale Eh, io vedo la mia di visuale Ti aspetto io? Tu sei qua? Sei vicino? Boh, non so dove sei No, il problema è che lì si diceva Ma al contrario, lo aspetto io E ora Ah, no, stavo cadendo Aiuto, cadono No, 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 no Ok, ci sono Mamma mia che paura quando si cade qua Questa mappa è con la pennappe Sì, dovrebbe essere con la pennappe Cioè, è più difficile che le altre che faccio Cioè, per me Cioè, non ho come Allora No, ma sono io che sono imbranato, ragazzi Qua? Dove devo andare? Ok, posso Mi sono perso Aspetta, tu dove stai? Boh, di qua Ma si torna indietro? Se me si, cioè, aiuto Ah, no, è giusto, è giusto Di qua No, 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 è giusto Oh, attenti Qua Ok Ah, sì Attenti Ok Dove sei te, Alessi? Aspetta, vediamo Ah, sei giù, giù, giù Sei in basso Fami fare Fami fare Fami fare Cosa devi fare? E qua dove si va? Le cose Ecco No, sono ritornato indietro Ma scusa, sono tornato indietro Ma non capisco Ma c'è Ma perché gira intorno sta mappa? Non capisco Ma dove devo andare? Aspetta, non capisco niente Aspetta Aspetta Boh Uno Ah, devo andare lì? No Ma no, veramente Voglio le mappe con i ciponi Queste qua veramente, cioè No Tristezza Ormai non si può cambiare Non si può cambiare Ma no, ma che lavoro Che lavoro, ma che lavoro Ma che lavoro Ma dai, ma Vedi, vedranno solo che chiediamo Sì, sì, sì Svideo e adesso cadono sempre La possiamo intitolare Questa è il video Adesso cadono sempre Mamma mia Basta, basta Le gomme, basta Adesso Non riesco a fare niente Non riesco a fare Aiuto Vado di qua Dallo sdurp Stavolta vado dallo sdurp Aspetta Ok Allora, concentrazione Uno Ciao Svideo Hai visto? Hai visto? Sei Dove sei te? Sto qua Sto qua sopra Sì, sei in alto Ciao Guarda Ciao Ciao Non capisco dove sei Ciao Guardami Guarda Sto facendo l'abbraccio 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 Faccio io Faccio io Faccio io Faccio io Vai Comunque L'1 e 24 L'1 e 24 Tutto va bene Siamo ancora vivi Allora Quello Adesso Adesso Svido Cadono sempre Cadono sempre Adesso Svido Cadono sempre Soprattutto svido In questo video Hai fatto una rima Svido Ah si? Boh Svido Svido Ah beh Eh vabbè Se non fa rima quello Dunque di qua 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 Accento non ci va E poi Salgo Eh ecco E qua che non capisco E qua c'è la mappa della nave Lì c'è la nave C'è la mappa per i prosi Eh veramente Allora i letti Così 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 Forse Ma non capisco Giro qua Ah devo andare di lì Ok No 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 Ma dai Ma che nu Nabbo Sono proprio Nabbo Ok Forse Però se sono Nabbo Dovrei riuscire a farla Sta mappa È la mappa per i nabbi Non capisco Nabbo 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 Uffa Siete che Si vede che Devo trovare la mappa Per super nabbi Mappa per super nabbi Perché Nabbo e basta Guarda Guarda dove sono Guarda dove sono Eh Mi aspetta Eh Guarda 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 qua Easy Guarda qua Easy Bo Bo Non capisco dove sei Guarda in alto Non capisco Mi viene il mal di mare a guardare in alto Ti ho battuto Ti ho battuto Eh ci credo Ci credo Ma è battuto Cioè Allora Andiamo qua Aspetta Facciamo il scorciatoio Svideo Eh Diciamo di sì Allora No No Questa Ah Ok Svideo Sì Ti vedo Ciao Ti ho visto Ciao Sto arrivando Sto arrivando Se ti abbracciamo lì Lo sai che cadiamo Sicuro No Ah no Non cade Ok Avevo paura Allora Vai Dai Ci dobbiamo fare Adesso Allora guarda Perché qua Bisogna andare Qua è facile Qua vedi Qua Qua Perché se no si torna indietro Qua è facilissimo Allora qua Salto qui No No Cos'è sta roba E allora No non sono caduto Ma Mamma che paura Ok 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 Allora qui Colonne Lone 27 Lone 27 Svier Allora facciamo Quando Cado Quando cado io Molto democraticamente Chiudiamo Chiudiamo il video Allora Dai questa parte è facile Questa parte è molto facile Questa parte è facilissima Ragazzi Questa parte È proprio facile Facile Era più duro L'inizio Qua dovevo andare Non ho capito Ah di qua Sì Io mi sono perso Mi sono perso Mi sono perso Si è perso Mi sono perso Mi sono perso Guarda a me Guarda a me dove va Boh Ah ma questo basta andare dritto Aiuto Aiuto Ah c'era il trucco C'era la trappola Non sono tutti uniti Alcuni sono uniti Alcuni sono uniti Alcuni sono uniti Alcuni sono uniti Si è caduto Nell'imbuto Come Naruto Comunque Lone 28 Eh vabbè Dai Adesso Te l'ho detto Facciamo Che Quando Quando cado Chiudo il video Dai Perché ormai Sono Un buon punto Ci sono I Cosi I I I I cart Ci sono i cart qua Ah E tu ve lo devo Aspetta Non so se Tu lo sai Ma uno Se te lo butto giù Il cart Cosa succede? Prova Prova Ti butto giù Un cart Aspetta Prova Aspetta che torno indietta Prova a buttarlo Allora Buttalo Sì sì Un attimo Uno Mi sta tornando indietro Perché c'era Allora Ti immagini No ma sono caduto Aiuto È caduto Si è caduto No non è caduto Non è caduto il carter No Beh no Guarda Stavo cadendo io Ho preso paura Non lo so se è caso Perché non ti alzo Fa il video Mi lo vedo È l'uno e mezzo Svi È l'uno e mezzo Ai dai Quando Quando Ma io Eppure c'è un carter Che è sceso Ah allora Sto andando a porta sbagliata Aspetta Gira No dicevo Che se Che se Che se Aspetta Spingo questo Spingo questo giù Lo spingo giù questo No 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 niente 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 Lascia stare Lasciamo stare il carter Adesso vado a vedere Dove arrivo con questo carter Il video viene un po' lungo Ma fa lo stesso Ci vuole di mezz'ora Ma non può andare più veloce Sto carter Dai Cioè veramente È lento È lento È qua No Ma non dove Ma Niente Guarda Allora niente Basta dai Sì Dai vieni sul carter No Non va più Perché non va più il carter Ma mi sei bloccato tutto Il gioco è un bug Viva Se bug Ah adesso va Adesso va Si stava bugando Dove sei Lascia Dove sei Scendi giù Scendi giù Sono qua Dai vieni Vieni col carter Finiamo col carter Finiamo col carter Finiamo col carter Ah dietro dove Qua Aspetta Ah vieni vieni Che finiamo il video Andando in giro col carter La 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 Un salutone Da Svideo E da Alla Sv106 Ciao 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 Svile Sì Aspetta Vai Dove sei Aspetta Entri un po' Del video Allora Chiediamo il video qua Ciao 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 A tutti Nel video Ciao Ciao